amici di motosport.com ciao a tutti eh in attesa della Pasqua facciamo una breve chiacchierata con il nostro inviato di punta Roberto Chinchero perché perché forse la Ferrari ci sta preparando un nuovo di Pasqua e lo chiedo a Roberto ciao Roby ciao Franco allora io parto dal concetto che bisogna abbattere il ferro finché è caldo no? Per cui è giustamente eh abbiamo assistito a un inizio straordinario da parte della della Ferrari che ha messo ha confermato la bontà di un progetto tecnico che eh gara dopo gara sta sta convincendo veramente tutti ad iniziare dagli avversari e come abbiamo detto e tu e Giorgio Piola prima di tutti sarà un campionato che si giocherà sugli sviluppi e una battaglia che credo inizierà a Imola sotto molti fronti ma sarà progressiva andrà avanti eh Miami Barcellona chiaramente i più evidenti quelli che magari potremmo identificare con eh più facilità sono quelli sul corpo vettura ma c'è anche il motore e e credo che arriveranno importanti novità in casa Ferrari a a partire la Gran Premio di Miami non so se ti sorprende questa cosa Franco. No eh Roby non mi sorprende eh dopo che abbiamo raccolto i primi dati abbiamo cercato un po' di approfondire e diciamo che i punti fermi dovrebbero essere eh a Imola visto che c'è la la Spring Trace solo il fondo che già abbiamo visto in Australia quindi non è una prova eh le prove le hanno già fatte se è pronto lo montano. A Miami come giustamente stai mettendo in evidenza tu ci dovrebbe essere un anticipo di quello che sarebbe stato eh il debutto totale della Power Unit numero due in Spagna e alla fine Maranello credo che abbiano dei dati che siano soddisfacenti al punto che eh il motore endotermico debuterà in Spagna ma la parte ibrida che il regolamento consente di omologare fino a settembre quindi parlo di MGUK il motogeneratore la centralina e la batteria verranno anticipati al Gran Premio di Miami. E che poi Franco non è una novità assoluta perché lo scorso anno la Ferrari eh introdusse eh l'ibrido evoluto quello che sta ancora utilizzando al Gran Premio nel Gran Premio di Russia con evidenti benefici sul fronte della eh della Power Unit e cambiò anche l'esito del confronto McLaren ricordi che c'era ancora la battaglia per il terzo posto e analizzando poi a posteriore quella che era stato il finale di stagione la stessa McLaren aveva ammesso che dal momento in cui la Ferrari aveva introdotto l'ibrido di fatto aveva fatto un salto di qualità in più e quindi quello che mi ehm colpisce favorevolmente è una pianificazione che parte da lontano in casa Ferrari questi sono eh ehm dei cambiamenti che vengono introdotti eh frutto di una lunga pianificazione che parte da lontano probabilmente gestita già forse prima ancora dell'introduzione del 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 librido che stanno utilizzando attualmente quindi vuol dire avere idee ben chiare molta fiducia ed è quello che stiamo vedendo in questa Ferrari duemila e ventidue ma forse cioè duemila e ventidue è dove vediamo gli effetti il il lavoro pianificato ha è datato ben prima quindi è eh bisogna riconoscere e veramente bisogna fare un grande applauso a Mattia Binotto e a tutti i suoi collaboratori noi diciamo Mattia Binotto indubbiamente per Mattia ma anche per tutti quelli che che lavorano con lui che mentre era uno oggetto di critiche eh perché non era la Ferrari che eh tutti si aspettano di vedere parlo del duemila e ventuno in realtà il cantiere era in grande attività per il ventidue e anche oltre probabilmente eh al punto che sta sfornando adesso in questi mesi eh i risultati di un lavoro partito da lontano che eh sta confermando in pista di essere anche un lavoro fatto molto bene quindi diciamo che Franco eh la concorrenza sicuramente sta lavorando per ridurre il gap ma questi stanno già ripensando di allungare nuovamente. Anzi eh la domanda proprio che ti volevo fare eh il tentativo è quello di creare uno strappo adesso in questa prima parte della della stagione perché eh dell'effetto nuovo ibrido eh se ho capito bene beneficeranno anche i due team clienti. Sì perché una volta che eh viene aggiornato team ufficiale chiaramente vengono allineate anche le squadre eh le squadre clienti le quali mi sembrano già mh ben contente e soddisfatte del supporto che eh la Power Unit Ferrari gli ha garantito in questo inizio di stagione credo che lo saranno ancora di più se arriveranno degli degli aggiornamenti e questo Franco conferma ancora di più ehm un lavoro di sinergia. Eh abbiamo visto che negli anni scorsi quando la Ferrari è un po' calata in termini di performance ne avevano sofferto anche le squadre clienti ma questo è un po' il destino di tutti. Eh abbiamo analizzato in più occasioni anche come quest'anno un po' tutti i team Mercedes magari anche per altri per altri motivi comunque tutti i team clienti ne stiano pagando un po' il prezzo di un inizio sottotono da parte della della Mercedes quindi eh sono un po' dei gruppi che si muovono simultaneamente quando va bene il team ufficiale in un modo o nell'altro vanno bene anche i team clienti. Questa non è una novità assoluta però chiaramente io credo che saranno ben contente anche a Salfa Romeo se ci saranno delle migliorie sul fronte motore. Beh stando le indiscrezioni che abbiamo raccolto eh qualche cavallo in più dal librido viene fuori certamente e questa diventa una spinta importante a quello che è lo sviluppo eh della macchina anche perché se era programmato in Spagna e viene anticipato è il segno che le novità che la Ferrari porta eh hanno già raggiunto i target di affidabilità e anche questo è un aspetto nell'arco dell'intera stagione molto molto importante. Per quanto e qui ti domando eh il fatto che ci sia un eh Leclerc che ormai vicino nei punti eh di vantaggio su Max Verstappen ha diciamo quasi due gare di di separazione eh vuole anche dire che c'è una Ferrari che sta lavorando in proiezione per avere più prestazione ma ragiona anche in un'ottica che è quella di mettersi al riparo da un eventuale stop un eventuale secondo stop e cercare di rimanere comunque davanti nella classifica assoluta. Questo è un eh permette di guardare al futuro con una certa tranquillità e magari può anche spingere a programmare poi l'utilizzo di un quarto motore per ridurre la vita di tutti gli altri e eh affrontare la stagione in maniera più serena. Sì è strano perché eh finora chi ha manifestato problemi di affidabilità non è non è certo la Ferrari eh e chiaramente sappiamo che è il problema più grande che sta affrontando Red Bull con Honda e e anche io posso anche immaginare che eh mentre magari a a Milton Keynes nella sede Red Bull si stanno eh cervellando e preoccupando di quella che è stata finora una fidabilità allarmante e se poi vedi che i tuoi avversari principali non solo vanno meglio ma hanno in cantiere anche delle novità è è un'ammazzata anche psicologica perché eh ed è quello che per anni hanno subito gli avversari Mercedes io ricordo che c'erano c'erano dei momenti in cui la Mercedes andava fortissimo poi annunciava anche novità per la gara successiva che era un'ammazzata tremenda per gli avversari perché di fatto sapevi che andavano a fare qualcosa in più e credo anche Franco che quando parti da un progetto di base giusto come sembra essere la la power unit Ferrari che abbiamo visto finora ehm non lasci non corri dei rischi sei meno portato a correre dei rischi su sulla fidabilità perché sai di non dover recuperare della performance lo fai vai avanti se sei certo di non andare a togliere nulla quella che la fidabilità che hai perché sarebbe un autogol quindi lo fai immagino sulla base dei riscontri eh effettivi che ti fanno ti danno l'ok a dire ok possiamo farlo questo questo passo quindi c'è anche un aspetto eh eh indubbiamente è tecnico ma c'è anche un risultato psicologico che va a lanciare dei messaggi che indubbiamente saranno pesantissimi sulla concorrenza beh considerando che eh queste parti parlo di quelle ibride eh poi rimarranno quelle per quattro anni fino al alla fine del venticinque appare evidente che a Maranello devono essere tranquilli dei passi che stanno facendo se no avevano tutto il tempo per trascinarsi i tempi di ricerca fino al famoso mese di settembre qui invece mi sembra molto chiaro che eh Enrico Gualtieri capo dei motori eh su ordine di Binotto abbia deciso di andare alla carica in questa prima parte della stagione e questo è un segnale eh tecnico ma come dicevi tu molto psicologico. Sì ne ha parlato anche eh Zack Brown eh e diceva per anni eh ci siamo un po' tutti abituati a considerare eh le squadre che potevano disporre della Power Unit Mercedes sulla loro monoposto eh in grado di poter avere un vantaggio in più. Questo inizio di stagione eh cambia questo scenario. Oggi avere la Power Unit Mercedes buon motore ma di fatto sai che non hai un decimo in più. Non ha voluto aggiungere forse hai un decimo in meno perché probabilmente ci sono anche dei rapporti da 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 mantenere. Però il messaggio il messaggio è chiaro e oggi sembra tutto cioè oggi prendiamo atto di una realtà ma eh sembra tutto scontato ma se facciamo un salto indietro e tu Franco sicuramente lo ricordi anche meglio di me sembrava quasi una battaglia impossibile da parte di Honda Ferrari e Renault recuperare il gap da Mercedes. Ora Honda lo scorso anno diciamo che è arrivata a livelli Mercedes ci si è avvicinata poi credo nel finale di stagione Mercedes qualcosina in più l'ha trovato e qui siamo davanti a una Ferrari che ha probabilmente qualcosa in più non sappiamo quanto ma qualcosa in più ma ce lo dicono anche gli avversari eh non è che sono sono nostre supposizioni e sembra molto solido come contesto cioè l'aggettivo solido è quello che per me calza meglio nel descriverla la Ferrari che stiamo vedendo è veloce competitiva però la solido perché perché la macchina va bene perché le gestisce bene le gomme perché il motore va bene ehm non ci sono allarmi su consumi sull'affidabilità eh è vero sono solo tre gare però è anche vero che sono tre gare in cui le prime tre gare della stagione e va andrà avanti fino alla quarta o la quinta in cui tu un motore lo usi tutto weekend cioè lo usi per fare FP1 FP2 FP3 qualifica e gara successivamente inizia la rotazione quindi quello che riesci a ottenere dal primo motore è molto indicativo perché è è un motore che va a chilometraggio pieno successivamente si fa delle ipotesi avranno fatto la rotazione che è un esercizio franco che noi facciamo tutte le volte avrà messo il motore vecchio il venerdì chissà se poi a Monaco usano il motore 1 2 adesso non ci sono storie che finora hanno usato il motore 1 il motore 1 sta andando bene e sta andando bene magari anche con cioè delle volte con la macchina che ha un po' più di carico un po' più di drag e e e ti sembra quasi che ok pagheranno in termini di velocità massima a me è quell'immagine della ripartenza con la safety car con Vestappen che sembra destinato a superare Leclerc Leclerc che tiene giù la macchina che va via e Vestappen non lo supera è qualcosa che mi ha colpito perché in passato vedevamo far solo a una macchina che era o grigio nera cioè era quella lì e adesso le cose sono cambiate. Ecco rispetto all'anno scorso Roby c'è un aspetto tecnico che è cambiato si è passati alla benzina e 10 quella con un 10 per cento di etanolo e probabilmente su quel terreno i tecnici Maranello insieme alla Shell devono aver fatto un grande lavoro perché probabilmente in quell'area c'è un po' di difficoltà nel rapporto fra Honda, Mobile One e Red Bull e quindi tutto quello che sembrava scontato all'improvviso non lo è stato più e vediamo un cambiamento di valori sicuramente importante. Hai detto bene e qui chiudiamo la Ferrari sembra che se la sia preparata questa modalità. Questo programma che noi stiamo descrivendo adesso non arriva adesso è un qualcosa che è stato definito, programmato, inserito nel rapporto delle spese e dei costi e quindi è il segno, forse il primo segno che ci mostra Roby che questa Ferrari già nell'inverno sapeva che la F1 75 sarebbe stata buona. Che ne pensi? Mi colpisce molto immaginare a Maranello i tecnici che lavoravano sotto le critiche, come ho detto prima, ma sapendo da avere in mano qualcosa di speciale che ci avrebbero fatto vedere nel 2022. Quindi onore al loro lavoro. Amici di Motosport.com, Roberto, cogliamo l'occasione anche per fare gli auguri di buona Pasqua a livello video del mondo YouTube a tutti quanti e amici seguiteci perché avremo altre sorprese. Ciao a tutti, ciao Roby. Ciao.